Il sistema di canali è un consorzio di tonistica che la utilizza per l'irrigazione dei campi. L'acqua è una partita di cazzuoli più alta che abbiamo, a circa 500 metri di colta. L'acqua è una partita di cazzuoli più alta che abbiamo, a circa 500 metri di colta. L'acqua è una partita di cazzuoli più alta che abbiamo, a circa 500 metri di colta. L'acqua è una partita di cazzuoli più alta che abbiamo, a circa 500 metri di colta. L'acqua è una partita di cazzuoli più alta che abbiamo, a circa 500 metri di colta. L'acqua è una partita di cazzuoli più alta che abbiamo, a circa 95 metri di colta. l'olio sotto i pattini e lo solleva di qualche decimo in modo che non strusci, parte sempre lubrificato. Quando supera i 200 giri l'olio stesso riesce a fare il velo e non serve più la pompa. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!